Sabato 18 settembre, Chiesa di Sant'Agostino a Modena inizia l'anno pastorale 2010-2011 per la Chiesa di Modena Nonantola e inizia il primo anno pastorale effettivo di Monsignor Antonio Lanfranchi che ha presentato proprio qui in Sant'Agostino la sua lettera pastorale Tu sei prezioso ai miei occhi, educare è possibile, educare è bello sul tema dell'educazione abbiamo intervistato alcuni dei partecipanti all'Assemblea siamo con Monsignor Paolo Losavio, inizia l'anno pastorale a Sant'Agostino con la tradizionale Assemblea che anno pastorale sarà questo per la Diocese di Modena? Sulla indicazione dei Vescovi della CEI è il primo anno che noi dedichiamo al tema dell'educazione il tema che è anche alla base della lettera pastorale che appunto in questa occasione come tradizione viene solennemente diciamo così consegnata ai vicariati, ai preti, agli operatori pastorali tu sei prezioso ai miei occhi che si riferisce all'atteggiamento di Dio che insegna Dio insegna con questa attenzione tipica di Dio per ogni persona ecco questo è un po' l'obiettivo che viene sottolineato nella lettera pastorale imitare Dio nel suo atteggiamento come colui che insegna al suo popolo avendo questa capacità di attenzione tipica di Dio che in qualche modo deve essere esemplare anche per noi operatori della pastorale ecco in quest'anno pastorale Educare è bello, educare è possibile, il sottotitolo quindi il Vescovo Monsignor Lanfranchi entra subito nel tema dell'educazione sì, entra proprio da maestro perché poi tra l'altro ha una preparazione particolare in questo ambito lui ha insegnato anche al laterano materie che sono attinenti appunto al tema educativo e quindi la lettera pastorale credo di poter dire è veramente molto bella può davvero rappresentare una impegnativa indicazione per questo anno pastorale educare è possibile, educare è bello è proprio in ordine a non soccombere di fronte alla difficoltà che tutti sentiamo nell'ambito educativo ecco, vale la pena davvero impegnarsi uno degli scopi della lettera pastorale è proprio questo di ridare ecco proprio questa volontà di impegno e questo atteggiamento pieno di speranza ecco nell'ambito dell'educazione Su Elena Bosetti comincia il decennio dedicato dai Vescovi italiani al tema dell'educazione e qui a Modena la lettera pastorale di Monsignor Lanfranchi educare è possibile, educare è bello perché educare è bello ed è possibile? Beh, anzitutto devo dire che questa è una lettera pastorale davvero vibrante mi piace molto che Sua Eccellenza abbia posto anche in primo piano proprio che è bello e usando questa bella espressione del profeta Esaia che noi siamo preziosi agli occhi di Dio e che pertanto educare è cosa del cuore è un'altra espressione cara presa da quel grande educatore che è Don Bosco allora se è cosa del cuore io penso che ha anche una grande affinità con il femminile perché il cuore in genere una madre lo comprende e quando Don Bosco diceva che è cosa del cuore voleva proprio evidenziare anche come dobbiamo essere materni benché lui parlasse a uomini e dunque penso come anche il femminile sia importante all'interno della famiglia e anche all'interno della Bibbia perché Dio dice di avere viscere materne per il suo popolo e il Signore Gesù è stato educato da Maria e lui stesso impara in qualche modo dalle donne penso ad esempio a come si è lasciato educare da Maria di Betania con quel grande spreco di profumo direi che a Gesù è piaciuto così tanto l'ha trovato così bello quel gesto che poi ha voluto in qualche modo ripeterlo nell'ultima cena con la lavanda dei piedi lui si è messo ai piedi dei suoi discepoli e così ci ha anche insegnato che per educare dobbiamo farci piccoli dobbiamo scendere dobbiamo metterci al piedi dell'altro perché l'altro, il tu, cresca